Quasi 400 mila euro di sanzioni per irregolarità riscontrate negli ambienti di lavoro e nell'utilizzo della mano d'opera sono quelle elevate durante i controlli estivi tra Prato e Montemurlo. Oggi ha fatto il suo debutto in prefettura al tavolo per la legalità nelle attività produttive, a cui per la prima volta sono stati invitati anche CGL, CISL e UIL. In due mesi di controlli in 14 ditte tessili tra Prato e Montemurlo sono state elevate sanzioni per oltre 381 mila euro per violazioni di tipo sanitario relative alla sicurezza sugli ambienti di lavoro e per l'utilizzo di mano d'opera a nero o clandestina. Sono i dati diffusi dalla prefettura di Prato al debutto del tavolo interistituzionale sulla legalità nelle attività produttive, a cui per la prima volta hanno partecipato i sindacati confederati, CGL, CISL e UIL, come da richiesta da tempo portata avanti da questi ultimi. La verifica dell'igiene generale sui luoghi di lavoro e la regolarità degli impianti rappresenta lo scopo principale dell'attività ispettiva del piano lavoro sicuro della regione, varato nel gennaio 2014, ma evidentemente sempre attuale. Gli accertamenti condotti da Polizia e Carabinieri, IMSS, INA e l'Ispettorato del lavoro coordinati dalla prefettura tra la metà di giugno e l'inizio di settembre, hanno avuto come esito anche la sospensione di tre ditte per l'utilizzo della mano d'opera clandestina. Anche 52 lavoratori irregolari tra i 52 e 21 sono risultati clandestini. Questo tavolo è la prova e la dimostrazione che quando si lavora insieme, soprattutto laddove c'è una carenza anche tutto sommato oggettiva di unità, di personale e si mettono insieme le professionalità, si ottimizzano chiaramente i risultati. E lunedì si riunirà per la prima volta a Prato, anche un altro tavolo, quello per la sicurezza urbana e integrata, a cui si sederanno forze dell'ordine di Polizia, Comune e Servizi Sociali, propedeutico al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sarà suo compito analizzare le segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, comprese quelle dei gruppi di vicinato. Tra le problematiche che saranno discusse durante le prime riunioni, quella del fenomeno delle aggressioni al personale e del trasporto pubblico. Intanto ovviamente bisogna far sì che vengano una volta individuate queste persone, che si capisca un attimino, questi ragazzi, che tipo di problematiche presentano. La città non è, voglio dire, una città in cui ci sono situazioni particolarmente preoccupanti, però è chiaro ed evidente che essendo una grande città, i fenomeni di disagio, soprattutto di disagio giovanile, possono radicarsi. Il fenomeno della tossicodimendenza è una delle piaghe sociali di tutto il Paese e su questo siamo tutti chiamati responsabilmente a fare qualcosa. Quindi su questi fenomeni si dovrà fare un'analisi un po' più di dettaglio.